Per iniziare la reattrice Patrizia Toia, quattro minuti. Grazie, signor Commissario. Voglio innanzitutto ringraziare i miei colleghi Shadov e gli altri colleghi con i quali ho lavorato perché, diciamo, in un solo anno, la proposta della Commissione è del febbraio 2016, in un solo anno siamo arrivati a portare all'approvazione, a concordare nel trilogo, un buon lavoro, io credo, che è una tappa fondamentale per il pieno raggiungimento dell'unione digitale. Oggi evidente a tutti che la connessione ad alta velocità è fondamentale per la nostra società e per la nostra economia. Si prevede che entro il 2021 il numero degli smartphone raddoppierà e che entro il 2020 il traffico Internet aumenterà di ben otto volte rispetto a quello attuale. Cito solo questi due dati per dare la misura dell'incremento e della crescita rapida di tutto ciò che è legato al digitale. Dobbiamo essere pronti a rispondere a questa domanda crescente di connessione e io penso che dobbiamo farlo perché i consumatori ne hanno bisogno, come le imprese e le amministrazioni pubbliche, per servire, per offrire servizi migliori e più efficienti. Penso a tutti i servizi innovativi, ma sono davanti agli occhi di tutti noi, che stanno nascendo, dalle automobili connesse a tutta la gestione della sanità a distanza, a tutti i servizi della pubblica amministrazione e anche a tutto il grandissimo tema della digitalizzazione delle imprese. Internet of Things, cloud, servizi di comunicazione mobile, sono solo alcuni esempi di connettività che stanno conoscendo questo sviluppo a livello globale. E c'è pertanto una richiesta di velocità, ma anche di reti di comunicazione, in grado di trasportare molti dati, una massa enorme e crescente di dati, raggiungendo aree densamente abitate, così come aree remote. Lo sviluppo delle più avanzate tecnologie impone dunque al legislatore europeo di garantire il miglior accesso possibile a Internet per tutti i cittadini, anche appunto nelle zone remote, contribuendo anche allo sviluppo di applicazioni sempre più trasfrontaliere e trasnazionali. Le frequenze radio non hanno confini, per questo è necessario prevedere un migliore coordinamento dello spettro a livello europeo e sono una gran sostenitrice da tempo di questa esigenza di coordinamento a livello europeo. E' in questo, in contesto che si insiedisce la proposta di questa decisione, che voteremo domani, che contiene misure specifiche per la liberazione coordinata della banda 694-790 MHz, chiamata più velocemente la banda dei 700 MHz. Scopo della proposta è creare criteri uniformi a livello europeo per l'assegnazione delle frequenze, per superare barriera all'ingresso, per vincere gli ostacoli della concorrenza che oggi ci sono e per offrire appunto questa connettività senza fili ad alta università, ad alta velocità, con un carattere universale. La disponibilità di un ampio spettro radio è uno dei presupposti essenziali della diffusione dei servizi a banda larga. La sua gestione avviene a livello nazionale, è un bene nazionale, e la vendita dei relativi diritti d'uso può assicurare ingenti entrate, qualche Stato lo ha già fatto, per le casse degli Stati membri. Ma la gestione a livello nazionale dello spettro radio determina condizioni molto diverse tra i singoli Stati, sia in termini di durata di licenze, di obblighi di copertura, ma soprattutto conseguenze di mancata efficienza nell'utilizzo di questa risorsa così preziosa. Ecco perché, ad avviso della Commissione, ma anche del Parlamento, occorre intervenire in modo tempestivo, come stiamo facendo, perché lo spettro sia gestito e regolamentato in modo più efficiente. Sostanzialmente la proposta si incentra su due elementi. Per la banda 700 c'è un calendario comune, affinché sia effettivamente disponibile questa banda per l'uso da parte dei servizi senza fili, a condizioni armonizzate, con misure di coordinamento. A sostegno della fase di transizione. Per la banda di sotto dei 700 è prevista una priorità a lungo termine per la distribuzione di servizi di media audiovisivi al grande pubblico, insieme a un approccio flessibile all'uso dello spettro, in risposta al diverso grado di diffusione della televisione terrestre nei vari Stati membri. Abbiamo fatto un buon compromesso nella ITRE, termino Presidente, chiedendo che tutto questo avvenga entro il 2020, il rilascio di questa banda, ma anche che ci sia per alcuni Stati una possibilità di una piccola dilazione motivata con alcune specifiche condizioni. Abbiamo chiesto anche un piano di coordinamento per le questioni trasnazionali. Ecco, penso che è un buon lavoro equilibrato, che risponda a degli obiettivi chiari e che ci metterà in condizione di vincere questa gara, diciamo, per la diffusione del 5G e di tutte le tecnologie più avanzate.